Si sarebbe avvicinato ad un gruppo di ragazzine di prima e seconda media e avrebbe chiesto ad una di esse di salire in auto in cambio di una certa somma di denaro. Ha destato a prensione la vicenda denunciata ai carabinieri che ha concretizzato il peggior incubo per un genitore di oggi. Sono scattate dunque nel massimo riservo le indagini nei confronti di un uomo, un 35enne di polla, che si trovava proprio a bordo di quell'auto. La vicenda sarebbe accaduta in pieno giorno in un'area molto frequentata nei pressi di un parco giochi. Tre ragazzine si trovavano lì quando l'uomo ha accostato con la propria auto e ha offerto del denaro ad una dodicenne in cambio di un giro in auto. Le ragazzine si sono immediatamente accorte che qualcosa non andava e sono fuggite, raccontando tutto ai genitori che si sono poi rivolti alle forze dell'ordine. Sulla vicenda si sta cercando di fare chiarezza e in particolare di definire se l'uomo avesse intenzioni sessuali e se già in passato si fosse reso protagonista di episodi simili. Pare infatti che la sua auto fosse stata vista altre volte vicino a gruppetti di ragazzine. Sono stati sentiti anche dei testimoni e l'iter avviato con la denuncia sta procedendo. Nel Vallo di Diano intanto la vicenda è stato stupore e apprensione soprattutto tra i genitori.